Gesuino Dejana, Benalonga, mercoledì 14 gennaio 2015, terzo appuntamento per il tuo prossimo libro. Oggi che cosa ci vuoi raccontare? Dunque, dei vari aneddoti che riguardano musicisti con cui talvolta ho suonato e altre volte li ho incontrati solo come amici, nel caso di Lester Bowie con cui dovevamo suonare insieme, degli art ensemble Chicago e Don Moye, che invece andò a buca la storia in quanto il produttore che era il Zio Saba portò Lester Bowie a Bitti, a Bitti c'è il vino, la bardente, e quindi è successo questo, perché a un certo punto addirittura una cosa curiosa, ho preso il trattore di Pizzero dei tenores di Bitti all'estero e ci montò su e andò in giro per Bitti, perché lui è nero e quindi può immaginare la meraviglia del suo bizzichese, ma questo ne è un trattore di Pizzero in giro per il paese. Che anno era questo? Se non sbaglio 88 o poco più. Insomma, all'appuntamento che era al bar Alice's Bar, se non vado errando, vicino alla Corallina sulla strada per Sant'Odoro, l'appuntamento era lì, però Lester non era più disponibile, io l'ho visto che girava sul terrazzo, mi era stanco oramai, Don Moye era all'Other Royal senza mezzo. È coinciso che lo stesso giorno qui a Portorotondo, dove passi da Benalonga, mi chiamò Aldi Meola, il chitarrista che in quel momento era particolarmente popolare con Paco De Lucia e John McCloughin nel Guitar Trio, che insomma è un gruppo famoso che riuniva 20.000 spettatori negli stadi e dunque lui mi chiamò e ci siamo incontrati per una cena insieme a Porto San Paolo e da lì ci siamo avvicinanti nel luogo dove si supponeva di suonare con gli altri ensemble. Per come sono andate le cose, che all'estero non era disponibile, allora ho suonato con la piccola band che si era formata per l'occasione e la padrona Eta Betta del locale, Eta Betta Francello, che è una carissima amica, mi invitò a dire perché non chiedi a Aldi Meola di suonare e in realtà in quella occasione al posto degli Art Ensemble ha suonato Aldi Meola davanti a una decina di spettatori allibiti per la situazione, contenti, felici. Gesù, che tipo di opinioni hai su Aldi Meola? Che tipo di chitarrista era ed è vivente? Certo, sì, a differenza di Paco Delussia che purtroppo è morto, Aldi Meola è chitarrista del pletro, che lo stesso Delussia diceva di aver incontrato un chitarrista eccezionale come Aldi Meola, preciso, intanto è di origine italiana e vive a New Jersey. Qui in Sardegna l'occasione è stata quando lo stesso Sava ideò di mettere insieme le corde, le corde di canna con Aldi Meola e Auzieri. E da lì in poi ci siamo visti più volte, a Sant'Annaresi, a Cagliari... Se tu devi fare una graduatoria dei dici chitarristi migliori per te o che hanno influenzato la tua carriera artistica ce lo puoi dire adesso? Stiamo parlando non di un'opinione molto relativa, la mia personale che mi ha influenzato in assoluto è stato Jimi Hendrix, Paco Delussia nel senso per l'ammirazione che ho per il suo grande talento. E gli altri otto? Sono loro due? Gli altri otto? Si ho detto una graduatoria dei dici chitarristi che tu ritieni... Sono tanti e allora a quei tempi è importantissimo Eric Clapton, Jeff Beck, non saprei altro, diciamo che sono i nomi che più ho apprezzato sono questi...